Buongiorno, non fate caso al mio aspetto, mi sto tantino preparando perché oggi vloggo, perché devo fare una cosa importante oggi farò il mio settimo tatuaggio intanto mi preparo perché se no qui non inizio più allora, voi direte, aspetta accendo la luce che forse è meglio ok, così mi vedete meglio forse era meglio prima che non mi vedevate comunque lasciamo perdere perché veramente mi sto preparando un attimo così al volo proprio per non essere atroce insomma, oggi faccio il settimo tatuaggio e voi direte, beh vabbè che cosa c'è di strano le hai già fatti sei quindi il settimo non è una novità eppure sì, perché io ancora non l'ho visto ma praticamente l'ho disegnato io l'ho portato al tatuatore quando ho prenotato il tatuaggio e quindi poi non so come lui l'avrà comunque sistemato, modificato perché ovviamente modifiche e sistemazioni andavano fatte poi ve lo faccio vedere e quindi niente, sono emozionata perché comunque il mio tatuaggio sarà una mia idea quindi è una cosa bella, positiva e praticamente quando hai visto uno, quando non sai che fare ti metti a guardare un po' su internet, su Pinterest dove si trovano sempre un sacco, un sacco, un sacco di idee che poi tra l'altro appunto sono personalizzate in base a quello che scegliamo noi e quindi guardando un po' idee per i tatuaggi così ma non tanto perché volessi fare un tatuaggio ma perché proprio a me piace tanto guardare i tatuaggi foto di tatuaggi e ho cominciato a vedere tutti questi tatuaggi in tema Disney e ora di tatuarmi un personaggio Disney addosso sinceramente non mi va no, perché non è che proprio io abbia la passione per un personaggio in particolare mi piace il mondo Disney in generale perché comunque disegno, quindi mi piace molto il tema fantasia, magia, queste cose qui e allora ho cominciato a vedere tutti questi tatuaggi che avevano come soggetto il castello Disney ma ce ne sono di certi veramente bellissimi e quindi mi sono detta, voglio il castello Disney anch'io e quindi il mio tatuaggio sarà il tatuaggio con il castello Disney intanto ho fatto un obbrobrio comunque lasciamo perdere tanto quindi penso che il tatuatore non è che strà a guardare come so a truccata tanto devo andare solo lì ma l'appuntamento ce l'ho alle due e mezza quindi insomma tempo ce l'ho e niente, quindi ho questo appuntamento per fare questa cosa credo che sarà un tatuaggio un pochino lungo e forse anche doloroso perché non è che magari sarà grandissimo visto lo spazio dove lo voglio fare visto il posto però essendo comunque un qualcosa di disegnato, di colorato, di sfumato c'è da fare e quindi niente, oggi faremo questo praticamente io questi giorni sto a casa io non lo so, ho combinato proprio un disastro praticamente questi giorni sto a casa in ferie perché poi giovedì tra l'altro devo fare un esame all'università quindi sto studiando ma anche qui la storia è strana e complicata perché praticamente io questo esame l'ho preparato e l'avrei già dovuto fare a settembre sono andata anche a farlo ma alla fine non l'ho fatto perché per una serie di coincidenze insomma di cose particolari ho sbagliato professore cioè ora non è che uno dice vabbè sei proprio fuori di testa no il professore era sbagliato ma non del tutto insomma è tutta una storia un po' complicata diciamo che viste le difficoltà che io ho a stare dietro comunque agli esami alle cose perché non frequento e considerando che faccio tutto online, mail, informazioni varie il mio errore è abbastanza giustificato e quindi lo devo rifare adesso quindi io a settembre sono stata a casa ho studiato e mi sono preparata sono andata a fare l'esame ho aspettato più di quattro ore per poi sentirmi dire no, non sono io il professore ok la cosa positiva è stata che poi ho contattato comunque il professore giusto e gli ho spiegato quello che era successo e nonostante io abbia studiato sui libri che non sono quelli del programma di quest'anno l'esame me lo farà fare sui libri che ho studiato e quindi già questo è comunque positivo così insomma devo solo ripassare per quanto la cosa non è così semplice perché è un esame che comunque a me in testa non entra tanto perché è di filosofia io non sono molto ferrata su queste cose insomma per me è una bella fatica però insomma studio e quindi niente quindi oggi niente la mattina starò a casa a studiare a ripassare un po' nelle pause magari chiacchierò con voi vi dico un po' di cose e vi faccio vedere poi il disegno del tatuaggio e poi insomma vi farò vi terrò con me non dico quando farò il tatuaggio perché vabbè non penso che userò la videocamera anche perché sarò da sola ma insomma poi vi dirò come è andata ve lo farò vedere più o meno penso, credo e vediamo un po' insomma come si evolve la serata perché l'appuntamento ce l'ho le due e mezza io credo che prima delle cinque da lì dentro non esco forse anche dopo e quindi boh lo vediamo vi dirò insomma a caldo le mie impressioni se mi piace il disegno se è stato tanto modificato e tutto quanto e niente insomma quindi questa è la mia settimana che ho passato praticamente e che passerò ancora chiusa in casa praticamente questo è il primo giorno che un tantino mi trucco ma proprio ecco una goccia proprio di trucco per uscire un attimo perché se no sto sempre insomma in casa anche perché non ho grandi impegni a parte la palestra ma anche lì ho scoperto praticamente dei canali un paio di canali youtube vabbè l'ho scoperto già da da questa estate però uno in particolare l'ho scoperto da poco e praticamente faccio gli esercizi quando sto a casa o tipo anche il sabato o la domenica o quando la palestra non c'è e devo dire che mi piace molto più della palestra nel senso ok fare gli esercizi a casa è un pochino più noioso che andare in palestra che comunque sei da solo magari non hai tutti gli attrezzi non hai lo spazio vabbè comunque la palestra è un'altra situazione però a livello diciamo di lavoro di fatica mi piacciono molto di più questi esercizi che faccio online perché comunque ho trovato soprattutto l'ultimo sito l'ultimo canale youtube che ho che ho trovato è veramente molto molto professionale c'è tutta la fase del riscaldamento c'è tutta la fase anche dello stretching sono proprio lezioni complete e e fatico devo dire veramente molto più che in palestra infatti c'è tipo stasettimana poi comunque sono stata sempre chiusa in casa ho fatto 5 giorni in palestra e sabato e domenica anche ho fatto questi esercizi a casa quindi mi sono allenata praticamente 7 giorni su 7 nonostante a volte la voglia non c'è però mi ci obbligo perché qua comunque so che sono contenta di farli perché vedo comunque mi sento meglio è tutta un'altra cosa insomma poi stando sempre seduta io seduta non ci posso stare cioè mi serve e dopo quando accendo il computer insomma vi faccio vedere questi canali così se vi interessano magari li seguite anche voi io ve li consiglio ovviamente io niente continuo a prepararmi e ci vediamo dopo ah e poi voglio fare anche una previsione e scommetto che ci indovinerò perché praticamente oggi proprio oggi in realtà stando al sito la consegna sarebbe dovuta avvenire domani ma mi arriva la mail di Bartolini che ha venerdì che ha preso in consegna il pacco che me lo consegnerà oggi allora praticamente mi deve consegnare un pacco che non è per me è per un amico che però assolutamente vuole questa cosa subito stasera probabilmente quindi io ho anche questa incognita di Bartolini che deve venire a consegnarmi il pacco il problema è che di solito Bartolini me lo consegna durante la mia pausa pranzo quando lavoro e guarda caso corrisponde a quando io andrò via per andare a fare il tatuaggio proprio oggi quindi sicuramente ci sarà anche tutto questo macello di doversi organizzare col corriere magari mi telefona proprio mentre sto a fattuaggio anche questa è fonte comunque di un po' di stress un po' di cosa perché io non capisco perché con tutto il tempo del mondo che c'è a disposizione quando ci sono due o tre cose da fare si combinano tutte in quel momento è assurdo che poi ho problemi anche a farmi lasciare il pacco al lavoro è tutta una storia un po' complessa insomma ci sono un sacco di problemi logistici proprio per ritirare questo pacco che però deve essere ritirato entro stasera vedremo io intanto ho finito di prepararmi e quindi direi di iniziare a fare qualcosa di importante prima faccenda da fare prima di mettermi a studiare il letto e l'ho rifatto quindi questo fatto seconda faccenda fatta pulire il caminetto e sti giorni veramente se non avessi avuto il caminetto non lo so perché quando si sta fermi in casa a studiare o comunque a fare qualcosa fermi tutto il giorno ti prende il freddo è inutile ti puoi coprire quanto vuoi almeno a me prende tanto freddo e non riesci poi a concentrarti in quello che devi fare io se non avesse avuto il caminetto il mitico caminetto veramente con la stufetta con i termosifoni non avrei non sarei stata bene come con il mio mitico caminetto che poi io accendo a caso cioè io non so capace ad accendere il fuoco non so capace a mantenere il fuoco cioè veramente sono un disastro però bene o male funzionare funziona bene o male un po' mi scalda e quindi niente oggi non credo che lo accenderò perché tanto poi vado via e quindi adesso vi faccio vedere il disegno del tatuaggio dunque considerate che è veramente una bozza nel senso che non è simmetrico cioè proprio l'ho fatto giusto per avere diciamo l'idea di quello che voglio ma ecco non è assolutamente preciso nelle dimensioni nelle proporzioni no è giusto per far capire quello che voglio ed è questo praticamente la mia idea è questa lo specchio fatto più o meno così con il castello Disney riflesso io l'ho colorato così per far capire che comunque voglio delle sfumature il fiocco che poi verrà comunque sistemato credo anche il manico comunque vedete non è proporzionato cioè è troppo corto vabbè comunque per far capire il manico e poi questi ciondolini così perché praticamente io lo voglio fare lo voglio fare sulla caviglia alla parte esterna e i ciondolini che vanno a finire sul piede più o meno la mia idea è questa e quindi niente sono curiosissima di vedere come l'ha sistemato il tatuatore e di vedermelo stampato addosso per vedere più o meno la dimensione la forma insomma come verrà l'effetto e poi niente inizierà il momento del dolore della paura però ce la faremo e quindi niente io a sto punto mi metto a studiare perché sono le 9 quindi fino a verso mezzogiorno studio poi mangio e poi parto insomma e quindi niente magari ci sentiamo nelle pause ok faccio una pausa ho finito praticamente di rileggere tutto e quindi devo ricominciare a rileggere tutto mamma mia allora io lo so che sembro sciocca no? perché me la prendo troppo per questa storia dell'università perché cioè alla fine a me laurearmi o non laurearmi non mi cambia nulla un po' perché ormai ho l'età che ho quindi una laurea non mi cambia la vita non troverò un altro lavoro per questo un po' perché comunque il lavoro ce l'ho quindi alla fine mettiamola così tipo tra virgolette un passatempo però io ci tengo ci tengo perché è stata la prima cosa forse è l'unica cosa che ho scelto io di fare perché tra le scuole superiori il lavoro insomma più o meno è stato un sentiero un po' segnato e non era quello che piaceva a me e quindi l'università è una cosa che avevo scelto io di fare che mi piaceva tanto finché l'ho frequentata prima di cominciare a lavorare e quindi ci tengo a finirla e per me ogni volta un esame è un incubo perché sto chiusa in casa una settimana non esco studio 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 mi ce la prendo troppo veramente mi distruggo fisicamente però non posso fare a meno perché poi se non lo faccio mi sento in colpa quindi cerco di studiare più che posso infatti c'è anche questa cosa di andare a fare il tatuaggio mi rende felicissima perché comunque è anche un modo per uscire di casa fare una cosa che mi piace anche quella però mi sento poi in colpa perché è come se rubassi tempo allo studio è atroce è veramente atroce ok vado a leggere il messaggio che mi è arrivato vi faccio vedere questi due canali youtube che ho trovato dove ci faccio un sacco di esercizi quando non ho la palestra quando ho insomma tempo libero anche nel fine settimana insomma che non so cosa fare allora uno è questo e si chiama pop sugar fitness non mette vabbè comunque pop sugar scritto qui e questo contiene diciamo video un po' diversi nel senso tipo l'ultimo cano caricato e che non vedo l'ora di fare per esempio è questo qui di strong by zumba che non ho mai fatto hanno comunque diversi tipologie di esercizi che possono andare da quelli di tonificazione quelle di aerobica oppure e hanno comunque diverse durate o le lezioni complete da 40 minuti o quelle da mezz'ora o comunque quelle più brevi da 20 10 che magari sono specifiche solamente per alcune parti del corpo e hanno anche esercizi magari che si ispirano alla kickboxing insomma hanno diverse appunto tipologie di esercizi quindi questo è un mondo diciamo un pochino più più vario l'altro l'altro canale invece è questo fitness blender e questo è più particolare nel senso che questo è più più tecnico ha proprio più esercizi solo di tonificazione anche questo ha magari video brevi specifici magari solamente per le gambe solo per le braccia quindi magari si possono anche unire più video brevi per creare un'unica lezione e e questo sono probabilmente anche l'altro ma questo più dell'altro contiene lezioni che sono circuiti quindi esercizi ripetuti più volte e sono appunto questi circuiti entrambi sono in inglese questo sì e l'altro diciamo è un pochino più divertente perché c'è anche la musica qui musica non c'è però sono ben stabiliti i tempi per ogni esercizio questo è molto molto tecnico questo qui il fitness blender è molto sì e sono questi due ragazzi insomma che si alternano mentre l'altro è un pochino più come si dice sciallo insomma un pochino più da palestra qui magari conviene mettere una musichetta in sottofondo e poi seguire le istruzioni comunque ah e poi in entrambi non l'ho mai fatta ancora ci sono anche un sacco di ricettine carine e di cose insomma salutari buongiorno praticamente oggi è martedì quindi è il giorno successivo al tatuaggio ma alla fine poi ieri sera non ho più più vloggato perché sono tornata a casa comunque che era un po' tardi e non avrei potuto farvi vedere comunque niente perché era tutto incelofonato tutto sporco di inchiostro quindi l'ho lavato ieri sera poi verso le 11 insomma quindi non aveva senso e quindi vi faccio vedere qualcosa adesso anche se non ha senso nemmeno farvelo vedere adesso perché comunque deve guarire lo sapete e quindi anche i colori non sono proprio quelli veri comunque ve lo faccio vedere poi appena guarito ovviamente pubblicherò foto su su instagram e io sono contenta sono contenta perché e vabbè l'avevo ideato io quindi mi è piaciuto vedere come poi lui l'ha modificato e la cosa strana è stata che a vederlo così sullo stencil prima che me lo mettesse sembrava piccolo ma poi intorno a me è venuto grande perché io sono piccola e però sono contenta perché ci sono tanti dettagli e mi piace e mi piace perché è è Disney quindi io lo adoro e non è stato particolarmente atroce a parte alcuni punti però in generale non è stato dolorosissimo ma non è durato nemmeno tantissimo perché nonostante sia abbastanza grande ci ho messo sì e no due ore quindi è stata veloce la cosa insomma tranquilla maggior parte del tempo ho guardato perché a me piace tanto guardare quando fanno i tatuaggi e quindi adesso ve lo faccio vedere l'ho appena lavato quindi adesso lo faccio vedere poi ci metterò la crema e niente dovrò lavare 3-4 volte al giorno metterci la crema fino a che non guarisce fa male il dopo devo dire che ieri sera poi io così senza proprio con noscialanza sono andata anche in palestra e ieri sera zoppicavo veramente mi faceva malissimo e anche stamattina quando mi sono alzata che sono stata comunque ferma nel letto mi faceva male probabilmente perché un po' si cicatrizza quindi ho sentito un rumore un po' si cicatrizza quindi muovendolo fa male comunque ve lo faccio vedere l'ho fatto qui nella caviglia e questo è il disegno e praticamente poi va a finire un po' anche sul piede e quindi secondo me è anche abbastanza sexy e come vedete insomma non è proprio tanto tanto piccolo però è ricco comunque di dettagli ci sono anche le stelline nel cielo cioè a me piace tantissimo e mi piace che finisca sul piede questa cosa l'ho ideata proprio così perché volevo che finisse sul piede e quindi niente questo è il nuovo tatuaggio con il castello Disney mi piace tantissimo perché me l'ha sfumato quindi non è una macchia e secondo me una volta guarito si vede veramente bene tutto tutti i dettagli i colpi di luce tutto e mi fa morire mi piace tantissimo e quindi niente fatemi sapere se se vi piace perché comunque io non sono particolarmente critica quando guardo i tatuaggi degli altri perché comunque ognuno fa quello che vuole e se qualcuno vuole un tatuaggio perché gli piace io guardo più che altro se è fatto bene quello sì per cui non critico tanto il soggetto mi piace guardare proprio come è fatto e quindi niente ci vediamo al prossimo video finalmente tra due giorni faccio il famoso benedetto esame che tiro avanti da settembre non ne posso più e quindi niente io adesso metto la crema e mi rimetto a studiare ciao e al prossimo video ciao